eccoci tornati al gioco, al libro quiz di questa settimana il primo aiutino il primo aiutino è l'autore l'autore per questo libro non c'è a mia memoria perché l'ho letto diverso tempo fa non c'è un nome o un cognome c'è un nome d'arte una parola sola e questo nome d'arte inizia per P di Palermo ok? P di Palermo con questo vi invito a provare a indovinare la recensione l'avete vista l'avete letta, ascoltata oltre che vista e quindi io vi rimando a sabato con il secondo aiutino con sempre me in video che vi dirò come poter cercare di avvicinarsi alla comprensione del titolo e quindi del libro quiz per intero perché non vale soltanto dire il titolo vale bisogna dire autore e titolo insieme per poter vincere in palio sempre il racconto di una pagina che torna per voi e con questo vi saluto e vi rimando a sabato ciao ciao